kent l'elefante ciao sono kent l'elefante oggi impareremo gli opposti cosa sono gli opposti sono coppie di parole che hanno significati diversi come giorno e notte l'opposto di giorno è notte lavoriamo di giorno e dormiamo di notte siete pronti per imparare iniziamo qual è l'opposto di grande è piccolo oppure freddo giusto l'opposto di grande è piccolo vedete l'elefante è grande e il topo è piccolo qual è l'opposto di pieno è triste oppure vuoto vuoto esatto il bicchiere è pieno e il bicchiere è vuoto facciamone un altro eccomi che trasporto qualcosa di molto pesante qual è l'opposto di pesante è leggero oppure triste beh sembra un po triste però è leggero leggero come una piuma la roccia è pesante e la piuma leggera facciamone un altro guarda che faccia felice qual è l'opposto di felice è triste oppure freddo triste esatto l'opposto di felice è triste io sono felice e tu proviamo ancora abbiamo una mano pulita qual è l'opposto di pulito è leggero o sporco giusto è sporco sporco è l'opposto di pulito la mano è pulita e questa è sporca ecco un fuoco è molto caldo qual è l'opposto di caldo è piccolo o freddo sì l'opposto di caldo è freddo il fuoco è caldo e il ghiaccio è freddo bravi avete fatto un ottimo lavoro a presto iscriviti al canale kent l'elefante